Dal libro Dottrine di Salvezza, volume 2, Immortalità e Vita Eterna Confronto fra immortalità e vita eterna L'immortalità e la vita eterna sono due cose distinte e separate. Tutti gli uomini riceveranno l'immortalità, siano essi buoni, cattivi o indifferenti, perché tutti beneficeranno della risurrezione dei morti. La vita eterna è qualcosa di più. Nessuno otterrà la vita eterna se non chi osserva i comandamenti del Signore, rendendosi così idoneo ad essere ammesso alla sua presenza. Quando il Signore dice, stretta invece è la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano, vuol dire che saranno pochissimi figli di uomini che si dimostreranno degni in questa vita di ritornare alla sua presenza per dimorarli. Questa è la vita eterna, cioè dimorare al cospetto del Padre e da Lui essere esaltati. Egli non intendeva dire che coloro che passano attraverso la porta stretta e camminano lungo la via angusta sono quelli che risorgeranno dai morti. Il Signore sarebbe molto lieto di dare a tutti la vita eterna, ma poiché questa benzione può essere concessa soltanto se meritata, cioè con il fedele assorbimento del proprio dovere, la riceveranno soltanto coloro che ne sono degni. I regni superiori ministreranno agli inferiori. Tuttavia, per la sua grande misericordia, il Signore farà per tutti coloro quello che potrà essere fatto e perciò essi saranno assegnati a tutti un posto da qualche parte, se non dentro le porte della città santa, all'esterno di essa, dove coloro che non hanno diritto alla pienezza delle benizioni possono essere ministrati da quelli che hanno una gloria più grande. Perché qui, in questa visione, dove si parla delle glorie, leggiamo che coloro che dimorano nel Regno Celeste ministereranno a coloro che abitano nel Regno Terrestre e quelli che sono nel Regno Terrestre ministereranno a quelli del Regno Terrestre. Il Fio può andare presso gli esseri terrestri, ma coloro che entrano in quel Regno non riceveranno la pienezza del Padre, non vedranno la grandezza della sua gloria. Queste cose egli le c'era loro. Essi non saranno mai più ammessi al suo cospetto. Coloro che entrano nel Regno Teleste non riceveranno la pienezza del Padre e del Figlio. Essi non andranno a trovarli là, ma manderanno dei messaggeri a visitare gli abitanti di quella gloria e a istruirli. Gli abitanti del Regno Terrestre visiteranno quelli del Regno Teleste e quelli del Regno Celeste visiteranno gli abitanti del Regno Terrestre. Essi non possono andare dove è il Padre perché il Signore ha detto dove Dio e Cristo dimorano nei mondi infiniti essi non potranno mai venire. Tuttavia, proprio in questa sezione è scritto che nonostante questo fatto le benedizioni di quelli che entrano là saranno così grandi che noi non possiamo comprenderle. Questa è la grande misericordia del Signore e Egli cercherà di salvare tutti i Suoi figli e di esaltare quanti più possibile. La completa obbedienza porta la vita eterna ma per essere esaltati si deve essere osservanti di tutta la legge. Questa è il grande amore che Egli dimostra per i Suoi figli. Malgrado essi pecchino e chiudano gli occhi alla verità tuttavia il suo braccio è ancora teso verso di loro ed Egli cercherà di afferrarli e di riportarli indietro se vorranno osservare i Suoi comandamenti. E se non vorranno farlo, non per questo Egli non farà per loro tutto quello che può. Egli li benedirà quanto più è possibile e tutti saranno salvati. Tutti gli altri riceveranno un posto da qualche parte posto che per loro sarà glorioso ma per ottenere l'esaltazione dei giusti in altre parole la vita eterna i comandamenti del Signore devono essere osservati in tutte le cose. Confronto fra la vita eterna e dannazione eterna A questo proposito desidero leggervi in un altro passo delle scritture tratto dalla sezione 29 di Dottrina Alleanza e qui il Signore parla di Adamo e del suo castigo dopo che fu scacciato dalla presenza del Signore. Ma ecco vi dico che io il Signore Dio diedi ad Adamo e dalla sua progenie che non morissero quanto la morte temporale. essi avevano già subito la prima morte cioè la morte spirituale e il primo disse di avere dato loro il potere di non subire la morte temporale fino a che io il Signore il Signore Dio mandassi loro degli angeli per annunciare loro il pentimento e la rivenzione mediante la fede nel nome del mio unigenito figliolo. E così io il Signore Dio accordo all'uomo i suoi giorni di prova ora fate attenzione a questo affinché per la sua morte naturale possa essere elevato in immortalità alla vita eterna. Capite il significato di ciò? Tutti i uomini sono elevati in immortalità liberi dalla morte alla vita eterna se osservano i comandamenti del Signore e non altrimenti. Ora io ritengo che queste parole qui siano molto importanti elevato in immortalità alla vita eterna ma solo a quanti vorranno credere. Ed ora notate bene questo e coloro che non credono alla dannazione eterna essi non possono infatti essere eredenti dalla loro caduta spirituale poiché non si pentono. La caduta spirituale significa l'esilio del cospetto del Signore e coloro che incorrono in essa non possono essere riscattati perché non si pentono. Quando infine si pentono se le loro azioni sono state malvagie ed essi non hanno il diritto di camminare lungo la via angusta e stretta e di passare attraverso la porta dovranno prendere il loro posto da qualche parte in qualche regno al di fuori del suo cospetto dove verranno istruiti da coloro che invece sono andati avanti fino all'esaltazione. La vita eterna è la vita di Dio. Un altro pensiero ancora. Voglio leggervi un versetto o due tratti del capitolo 17 di Giovanni. Queste cose disse Gesù poi levati gli occhi al cielo disse Padre, l'ora è venuta glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te poiché gli hai data la potestà sopra ogni carne onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato e questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Nessun uomo che non riceva il privilegio di entrare nel Regno Celeste e di venire a faccia a faccia con il Padre potrà sapere cos'è la vita eterna perché non può conoscere il Padre a meno che non lo veda non dimori con lui e non partecipa alla sua stessa vita che il Padre possiede perché questa è la vita eterna. Confronto fra la vita eterna e la punizione eterna Ho ancora un altro pensiero che non voglio mi sfugga dalla mente prima di chiudere il mio discorso. Nella sezione 19 di Dottrina Alleanza leggiamo della punizione infinita sapete l'idea della punizione eterna della punizione infinita aveva preoccupato il mondo e poiché le scritture parlano di punizione eterna e di punizione infinita certi uomini si sono messi davanti a varie congregazioni di persone dicendo loro se non vi pentite se non credete nel Signore Gesù Cristo e sarete dannati in eterno andrete in uno stagno ardente di fuoco e di zoffo dove brucerete per sempre senza mai consumarvi. Questa è la dottrina con cui essi hanno torturato il cuore e la mente di tantissima gente. Il Signore ci ha rivelato cosa si intende per punizione eterna perché Egli dice guardate infatti il ministero della divinità com'è grande ecco infatti io sono infinito e la punizione che è inflitta dalla mia mano è una punizione infinita poiché infinito è il mio nome perciò punizione eterna è la punizione di Dio punizione infinita è la punizione di Dio. Questa è la ragione per cui è chiamata infinita perciò io vi dico che la vita eterna è la vita di Dio cioè la vita che Egli ha quella che Egli possiede quindi se Egli ci dà la vita che Egli stesso ha noi abbiamo la vita eterna ma non l'avremo se non ci dimostreremo degni di andare al suo cospetto questo quindi è il Vangelo di Gesù Cristo questo il grande piano di salvezza la vita eterna è l'esaltazione c'è una differenza tra l'immortalità e la vita eterna l'immortalità è il dono di vivere per sempre esso appartiene ad ogni creatura vita eterna significa avere il genere di vita che Dio ha tutti coloro che divengono servitori avranno l'immortalità ma quelli che divengono figli e figlie di Dio godranno del dono aggiunto della vita eterna che è il più grande di tutti i doni di Dio la vita eterna è la vita al cospetto del padre e del figlio coloro che la ricevono divengono i membri della chiesa del primo genito e sono eredi come figli e figli di Dio essi ricevono la pienezza delle benedizioni divengono come il padre e il figlio e sono quei di Gesù Cristo cos'è la vita eterna? è una continuazione dei posteri in eterno nessuno ottiene la vita eterna se non chi riceve l'esaltazione la vita eterna è il dono più grande di Dio ma non l'immortalità il Signore dice in verità in verità vi dico che ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita tipi di salvezza la salvezza condizionata e incondizionata il sacrificio e la morte di Cristo face le due cose per noi ci dettero la salvezza incondizionata e la salvezza condizionata talvolta non ci riferiamo a questi due tipi di salvezza chiamandoli salvezza generale e salvezza individuale adesso vi leggerò quello che Orson Pratt disse in proposito le sue parole costituiscono una delle dichiarazioni più chiare che io conosca esse sono molto concise e ben espresse la redenzione universale della posterità di Adamo dalla caduta si compirà completamente dopo che la terra si sarà riempita con la sua misura di abitanti e dopo che tutti i uomini saranno stati riscattati dalla tomba all'immortalità e la terra stessa sarà cambiata e interamente rinnovata la missione di Cristo non sarà pinta fino a che non verrà quel tempo ma la redenzione universale dai effetti del peccato originale non ha niente a che fare con la redenzione dei nostri peccati personali il peccato originale di Adamo e i peccati individuali dei suoi figli sono due cose diverse il primo fu commesso da un uomo nel suo stato immortale i secondi furono commessi dall'uomo nello stato mortale il primo fu commesso in una condizione di ignoranza del bene e del male gli altri furono commessi dall'uomo quando conosceva sia il bene che il male i figli di Adamo non ebbero alcuna responsabilità nella trasgressione dei loro propri genitori e perciò non devono fare alcuna cosa per redimersi dalla pienezza di tale trasgressione essi sono stati perciò riscattati senza fede pentimento battesimo o qualsiasi altra azione sia nella mente che nel corpo la redenzione condizionata e incondizionata anche la redenzione condizionata è di natura universale essa è offerta a tutti ma non da tutti ottenuta essa è un dono universale benché universalmente non sia accettato i suoi benefici possono aversi soltanto per mezzo della fede del pentimento del battesimo della imposizione delle mani e dell'osservanza di tutti gli altri dettami evangelici la redenzione incondizionata è un dono imposto all'umanità che essa non può rifiutare anche se vuole farlo non è così invece la redenzione condizionata essa può essere ricevuta o rifiutata secondo la volontà della persona la redenzione dal peccato originale avviene senza fede o d'opere la redenzione dei nostri peccati è conseguente alla fede e alle opere entrambe sono doni della clemenza divina ma mentre l'uno è un dono impostoci incondizionatamente l'altra è un dono semplicemente offertoci condizionatamente la redenzione di una persona è forzata l'accoglimento dell'altra è volontario con nessuna azione l'uomo può impedire la sua redenzione dalla caduta ma può rifiutarsi completamente ed impedire la sua redenzione dalla pena dei propri peccati Cristo redime tutte le forme di vita abbiamo necessità di qualche altra spiegazione intorno a quello che intendiamo dire quando parliamo della redenzione incondizionata essa significa restaurarci da questo stato mortale ed elevarci a questo immortale in altre parole darci la risurrezione questa è data a ogni creatura non soltanto agli uomini ma anche ai pesci agli uccelli dell'aria e in genere a tutti gli animali come ci dice il Signore nella sezione 29 di Oltrine Alleanze tutte avevano un'esistenza spirituale prima che dette creature fossero collocate sulla terra perciò devono essere redenti il sangue di Cristo non soltanto redime l'uomo ma anche tutte le creature di questa terra nonché la terra medesima questo è il dono di Cristo senza alcuna richiesta da parte nostra non possiamo impedirlo noi non abbiamo niente a che fare con esso lo dobbiamo solo accettare perché noi non siamo responsabili della morte quindi come dice Paolo poiché come tutti muoiono in Adamo così anche in Cristo saranno tutti vivicati ma è la redenzione condizionata che ci permetterà di entrare nel regno di Dio come sui figli e figlie redenzione e salvezza significano esaltazione desidero commettere un po' questi tre termini redenzione salvezza ed esaltazione usati come sinonimi delle scritture molte volte le parole redenzione e salvezza significano esaltazione o in altre parole salvezza nel regno di Dio tuttavia talvolta c'è una differenza di significato malgrado questi tre termini siano usati frequentemente nelle scritture come sinonimi tuttavia hanno anche significati diversi che descrivono tre stadi separati del progresso eterno dell'uomo significati speciali delle parole redenzione e salvezza redenzione significa riacquisire uno stato liberarsi da una condizione morale o spirituale così Cristo divene il nostro redentore poiché ci fa riacquistare la vita che ci era stata tolta a seguito della trasgressione ci saranno alcune persone che saranno redente soltanto dalla morte mi riferisco in ciò alla morte fisica esse come figli di perdizione andranno di muare con il diavolo e i suoi angeli come dicono le sezioni 76 e le altre scritture esse non sono redente dalla morte spirituale che significa esilio dal cospetto di Dio salvezza significa che preservazione dal male è inconvente liberazione dal peccato e dalla sua pena che si dovrà scontare in uno stato futuro e anche il mezzo di liberazione dal male e dalla rovina questa è la salvezza la salvezza giungerà al grande corpo dell'umanità la redenzione dell'anima e della resurrezione salvezza vuol dire trovare un posto da qualche parte in quello stato redento liberi da regni dove i loro verme sono senza morte ed il fuoco non si plaga o in altre parole la redenzione da quella morte spirituale che sarà inferta ai malvaggi quando il signore dirà loro andatemene ed essi andranno nel regno di satana tutti coloro che entrano nel regno terrestre avranno la salvezza essi riceveranno un grado superiore di salvezza di quello degli abitanti del regno terrestre la salvezza verrà anche per coloro che entrano nel regno celeste quello sarà un grado ancora più elevato di salvezza confronto fra i significati speciali di redenzione e salvezza l'esaltazione è l'atto di essere elevati come di posizione o rango significa essere magnificati o glorificati così nel regno celeste coloro che passeranno i dei preposti a sorvegliare la via per la pienezza riceveranno l'esaltazione il regno il regno teleste non è un regno di esaltazione il regno terrestre non è un regno di esaltazione benché sia più in alto del regno teleste e ci saranno molti che entreranno nel regno celeste nella loro condizione di salvezza senza ricevere in esso alcuna situazione perché ci sono differenti gradi anche nel regno celeste la redenzione secondo il Vangelo è il dono di Dio a tutte le creature nate nel mondo secondo il quale esse vivranno di nuovo avendo il diritto alla resurrezione nelle scritture Cristo è spesso chiamato il nostro redentore e così egli definisce se stesso la salvezza è il dono di Dio secondo le scritture a tutti gli uomini che non peccano contro la luce e che non divengono figli di predizione la salvezza a vari stadi o gradi ogni uomo lo sarà giudicato secondo le sue opere e per questa ragione sono stati stabiliti vari gradi o regni esaltazioni significa dimorare al cospetto di Dio ed essere come lui compiere la propria salvezza la porta per la salvezza è stretta entrate per la porta stretta perché larga la porta è spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono coloro che entrano per essa perché è stretta la porta e angusta la via che mena la vita ebbene sono pochi che la trovano per quanto strano possa sembrare nel mondo ci sono pochissime persone che credono che dobbiamo giudicarle dall'orazione in queste parole del nostro Redentore la via che conduce alla presenza di Dio è stretta la qualcosa significa che coloro che vi passano attraverso non possono portare con sé quello che non appartiene al regno di Dio tutte queste cose devono essere lasciate dietro di noi quando entreremo in questa vita stretta che porta alla presenza di Dio dove possiamo ricevere la vita eterna pochi sono quelli che la provano nei miei insegnamenti non sono mai stato capace di far apparire facile il disegno evangelico cioè di offrire speranza a coloro che sono indifferenti a coloro che sono ostinati a coloro che intenzionalmente violano i comandamenti del Signore e non vogliono ascoltare queste verità allorché viene affetta loro ogni opportunità di osservarle l'appartenenza alla Chiesa non servirà da sola a salvarci il fatto che il nostro nome si trovi nel registro della Chiesa non vuol dire che noi necessariamente ci salveremo nel regno di Dio chi vuole più di questo il nostro nome dovrà essere scritto nel libro della vita dell'agnello che sarà prova che noi abbiamo osservato i comandamenti ogni anima che non osserverà i comandamenti vedrà il proprio nome cancellato da quel libro o come vorrei che noi che siamo investiti dal sacerdozio avessimo il potere di raggiungere le anime che non sono fedeli che non sono umili di cuore membri di questa Chiesa per riportarli alla totale comprensione del Vangelo è vero alcuni di noi hanno l'idea che se non commettono i peccati gravi i peccati mortali si salveranno nel regno di Dio Nefi vide il nostro tempo e gli disse che la gente avrebbe detto proprio questo ma io vi dico che non possiamo allontanarci dal sentiero della verità e della giustizia e nello stesso tempo conservare la guida dello spirito del Signore non è possibile come alcuni di noi hanno supposto camminare tranquillamente in questa vita osservando i comandamenti del Signore con indifferenza accettando taluna dottrine e non altre appagando i nostri desideri e poiché li consideriamo poca cosa non capire il nostro dovere verso tali comandamenti e poi aspettarci di ottenere la pienezza della gloria nel regno di Dio neppure la metà dei santi degli ultimi giorni si salveranno coloro che riceveranno la pienezza avranno il privilegio di vedere la faccia del Padre nostro il numero dei santi degli ultimi giorni che vi arriverà non sarà esorbitante il presidente Francis M Lyman 1840 1916 ordinato apostolo il 27 ottobre 1880 divenne presidente del consiglio dei dodici ha dichiarato molte volte e credo che avesse motivo di dichiararlo che se salveremo la metà dei santi degli ultimi giorni cioè se riusciremo a portarli all'esaltazione del regno celeste di Dio dovremo essere soddisfatti non che il Signore sia parziale tirando la linea come dicono alcuni per tenere fuori le persone se lo volessimo egli sarebbe felice che vi andassimo tutti ma ci sono leggi e ordinanze che dobbiamo osservare se non ci atterremo alla legge non potremo essere ammessi nel regno celeste molti entrano nella chiesa come pesci in una rete che devono essere scelti e gettati nuovamente nell'acqua oppure disposti in mucchi e così sarà per noi il salvatore paragonò il regno cioè la chiesa a dieci vergini cinque delle quali erano sagge e cinque sciocche e così non dobbiamo avere l'impressione che poiché non siamo membri della chiesa tutto vada bene per noi e la nostra salvezza sia cosa certa la nostra esaltazione sicura non è così dobbiamo perseverare fino alla fine dobbiamo osservare i comandamenti dobbiamo attenerci alle ordinanze dobbiamo ricevere le alleanze i suggellamenti il potere suggellante e i privilegi che si ottengono nel tempio del signore e poi vivere in accordo con essi questo è quello che dobbiamo fare non ci salveremo per la fede dei nostri padri non dobbiamo perdere di vista il fatto che nessun uomo può avanzare diritti alla salvezza o al sacerdocio di Dio semplicemente perché ha avuto un padre fedele se non siamo fedeli noi non riceveremo la pienezza della promessa la posterità di Joseph Smith normalmente la posterità di qualsiasi altro anziano di Israele rimarranno in piedi o cadranno negli abissi che essi stessi hanno scavato e se i figli di Joseph Smith si rifiutano di osservare i comandamenti su di loro non cadrà alcuna benizione mentre l'opera di Dio continuerà fino alla consumazione di tutte le cose la salvezza è una tazza di tè non si possono trascurare le piccole cose o una tazza di tè è una cosa così piccola o è così poco sì non è molto sicuramente il Signore mi perdonerà se bevo una tazza di tè certo e io vi perdonerà perché perdona ogni uomo che si pente ma fratelli mei permettete a una tazza di tè o a un po' di tabacco di mettersi sulla vostra strada e impedirvi di entrare nel regno celeste di Dio dove invece facendone a meno potreste ricevere la pienezza della gloria o è una cosa così piccola e il Signore ci perdonerà bene non c'è niente di piccolo che per ciò che riguarda il peccato di piccolo non c'è niente in questo mondo una tazza di tè poi un'altra tazza di tè e un'altra ancora è poco alcuni di noi hanno imparato alla primaria piccole gocce di acqua piccoli granelli di sabbia fanno il possente mare e la piacevole terra cos'è un granello di sabbia niente e tuttavia la terra è composta di parti ancora più piccole non molto tempo fa stavo viaggiando in automobile quando qualcosa cominciò a non funzionare e la macchina si fermò l'autista era inesperto un esperto di motore ma io non avevo molto tempo aspettai pazientemente finché mi rimase a malapena il tempo di arrivare alla stazione che distava 48 km per prendere il treno controllammo tutta la macchina tutti i fili erano a posto tutto era in ordine l'autista non riusciva a trovare una sola cosa che fosse fuori posto e tuttavia non riusciva a metterla in moto bene gli dissi hai fatto tutto quello che hai potuto ad eccezione di una cosa apri il carburatore e fai uscire un po' di benzina penso che ci sia dell'acqua dentro e gli fece quanto gli avevo detto rimontò ciò che aveva smontato e la macchina partì al primo corpo i piccoli peccati ci impediranno di salvarci che cos'era un po' d'acqua nel carburatore era una cosa da nulla eppure aveva fatto fermare il motore per cui stavo per perdere il treno ora immaginiamo di chiamare quest'ultimo salvezza permettereste che una piccola cosa come quella si frapponga fra voi e la vostra salvezza Dio non salverà ogni uomo e donna nel regno celeste se volete arrivarci ma avete delle colpe commettete peccati violate i comandamenti del Signore e lo sapete questo è il momento buono per pentirvi non cullatevi nell'idea che è una cosa talmente piccola che il Signore vi perdonerà soltanto pochi colpi soltanto un piccolo castigo e saremo perdonati perché se insisterete e persisterete in questa condotta potreste trovarvi scacciati